Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' importante a livello ministeriale riuscire a ottenere una sperimentazione che porti ai risultati scientifici riconosciuti come validi in senso generale, ma è importante nella catena di amministrazione pubblica l'apporto che può dare la singola amministrazione. Voi pensate soltanto agli effetti che sul bilancio della città possono avere la soluzione di una problematica legata a una patologia per quel che riguarda l'accompagnamento delle disabilità, tutto il discorso dell'assistenza ai malati. Ovviamente noi chiediamo all'amministrazione comunale di Bologna di sostenere in senso generale la ricerca scientifica e in particolare la ricerca che si sta avviando nella regione mediteromagna, ma in senso più generale anche di sostenere l'associazione che è volta al riconoscimento della CCSUI come patologia autonoma. Noi siamo grati al professor Zamboli di avere fatto questa scoperta e siamo orgogliosi che questo sia stato fatto nella regione Emilia Romagna, così come siamo orgogliosi di essere la città che ospita, come Bologna, la presidenza nazionale di questa nuova associazione, un'associazione che è nata, forse uno dei primi casi in Italia, dal social network. Noi siamo dei malati, dei familiari malati che si sono riuniti in una pagina di Facebook per sostenere l'attività di ricerca del professor Zamboli e del dottor Samboli. Questo ha portato alla nascita di questa associazione qui a Bologna e da qui parte un discorso che è diventato un po' più parlamentare. Perché è importante secondo noi la scoperta scientifica del professor Zamboli? Perché come in ogni settore della scoperta scientifica normalmente avviene che chi ha delle competenze diverse dal obiettivo centrale e riesca a sviluppare delle idee mole per cui è partito dagli effetti e è salita la causa di questi restringimenti venosi delle vene extracraniche e come avete sentito dall'importante esposizione che ha dato il dottor Abuscio è una ricerca che è iniziata nell'anno 2000 e è arrivata a concretizzazione con l'articolo del Big Idea nel 2006 ma che si sta sviluppando in una serie di unità di ricerca. Ecco, per noi è importante che le amministrazioni comunali, così come è successo a Ferrara, diamo un sostegno a questa attività di ricerca perché la ricerca possa essere effettuata in libertà e contemporaneamente, mentre si procede nella ricerca, sia consentito ai malati di effettuare queste cure. Cure che non sono delle cure miracolistiche, sono delle cure riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale, da oltre vent'anni. La PTA è un intervento chirurgico che da vent'anni si usa, è sicuro e viene utilizzato al Sistema Sanitario Nazionale Profondo, come vi ha spiegato il dottor Abuscio. E quindi separare, quello che è importante, la ricerca scientifica, la cuore dei malati, gli interessi dei malati da quelle che possono essere delle sterile polemiche. Molto spesso di questo problema si sa soltanto perché le polemiche assomiglie fra le associazioni o fra interessi economici differenti. Quello che quindi diamo all'administrazione quindi è di supportare la nostra associazione e l'attività del professor Zamboni, la ricerca scientifica che partirà anche a Bologna grazie alla collaborazione del dottor Saldi dentro a Breve Dreams e in generale la sperimentazione clinica sui malati di CCS e quindi di sclerosi multipla. Ricordiamo che Breve Dreams appunto non è l'unica sperimentazione. Io vi ringrazio e il sostegno ve lo chiedo. Grazie.